Jeff, la ultima vittoria è stata una liberazione per te? È stato buono, è stato buono per vincere in India, ma abbiamo ancora un po' di lavoro e un po' di miglioramenti, quindi non è come si rilassavamo. Abbiamo continuato molto forte e spero che possiamo avere una più migliora per questa settimana in Cape Town e vediamo cosa possiamo fare. Hai detto nella conferenza che stai ancora migliorando il carro, cosa necessita di più il carro? È difficile dire, ma è un miglior comprensione di ogni aspetto del nostro carro Abbiamo alcune zone, come in la rata, con la rata abbiamo molti problemi con la rata quindi questo è qualcosa che non si rilassavamo, quindi dovrebbe essere migliori per questa rata e cerchiamo di esprirare più performance. Cosa aspettate della rata del circuito? Il circuito sembra molto bello, da quello che ho potuto vedere Non so cosa aspettate, vediamo. Grazie.